in favore dei salti, in un mondo aperto e in un'apocalisse di mutanti. In quest'apocalisse voi siete il salvatore di Sunset City. Sunset Overdrive combina tutto ciò per cui Insomniac Games è divenuta famosa negli ultimi vent'anni. Armi devastanti come TNT Teddy, mondi unici, personaggi bizzarri e il nostro speciale humor. Per queste ragioni ed altre, Sunset Overdrive è il miglior franchise che potevamo fare. Vedrete perché in questo video. non cover questo. Se ci hanno giù me un po' più tempo di rispondere l'Overtage, ho sicuramente dovuto fare questo o questo o questo o questo. E io sicuramente, probabilmente, potremmo dovuto fare questo. But if you think their accidents are nasty Wait till you see what they're making on purpose They've got eyes everywhere And now they've sent in a legion of bots To quote liquidate their assets Fizco cover up begin And I must say They are efficient workers This is our turn Go ahead and check the exceeds expectations box Under year end assassination review Oh damn And there's little old you in the center of all this But you seem to be holding your own And ever since I crossed your path Survival has gotten a lot more survivable But don't get cocky Stay moving and stay shooting If you stand around you're gonna die And then I'm gonna die And then I'm gonna put my ghostly foot Up your ghostly Go forth And enjoy your apocalypse Have fun Ha ha No 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 semana